Buongiorno Però onesta, 9.000 won non mi va tanto di spenderli eh E poi ha preso questa con la patata dolce che è pura più carina La metro sta arrivando, ricordatevi sempre, questo è il modo in cui lo vedete Perché ci sono queste gabinette che vanno qui, qui, qui E quella è la fermata, insomma, dove siete poi l'ultima In questo caso ne stanno arrivando due Sperando che non siano piene Jenna, are you excited? To see sexy man E' in questo caso Qui in Korea Magica in Speria Magica in Speria No, non Magica, Magica Min Magica Min Allora ragazzi, vediamo Sono molto curiosa Ok, mi sono un po' come tendolanzia Perché ha detto che dovrei prendere da qui Ok, come Welcome to my crew Urban Plant? Sì, questo è il nome, certo? No No I pretzels Non capite che profumo che c'è qua dentro Ma il smè è incredibile Ma il smè è meraviglioso Revelle? Sì 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 Non si troveranno tutti su TikTok Perché come li scopriamo? Secondo voi Hanno anche il cover ordinare I don't know I think this is all the options Food and drinks Drinks Sì 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 Wow Cheese 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 Sì Sì Fiori col pazzo ragazzi Non capisco la sedia È un po' criptica Un po' poetica Un po' Bello, bello La mia amica da dietro Beh ragazzi, cioè Yet to com Palese, copiato, copiatissimo Ma che fanno queste signore? Ma che brave No ragazzi Ma i miei uccidono Questa è bellissima Eh? Ecco la mia amica Model Model Guardate questo Alice in Wonderland Ah? Alice in Wonderland No ragazzi che paura Cos'è questo caffè? Che cos'è? Sala degli specchi Ok Che è? Guardatemi la chiapetta Qui puoi guardarmi la chiapetta Mi sento eh? Dove sapere che Gianni è un po' obsesso con Taking picture everywhere Color of the water No ragazzi però basta Cioè sono un po' piena Basta Pianti 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 Mi hanno mandato il messaggio È pronto il mio coffee Pianti Proviamo l'ennesimo vanilla latte In Corea Vediamo Non ho ancora trovato uno che dico Mmm questo è buono 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 Ma quello caldo adesso che inizia stagione ovviamente E questo sta a 7000 I solito i prezzi sono più meno questi 7000 won Sessione picture ovviamente Ciao 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 Oh no Ho drankto prima la chiapetta Ciao 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 Comunque Ora siamo qui al chiuso C'è la musica proprio Cosa andiamo a vedere stasera? È lo spettacolo tipo Magic Mike Che fanno qui in Corea Si chiama Abbiamo presi Big E impieghi su Cluc Cluc K L O K Ok E abbiamo pagato 25000 all'1 Ciao No vi giuro Non si può riprendere Ovviamente I can't record Quindi siamo Siamo emozionate ma lo stesso tempo appunto non sappiamo perché in Corea come la vivono questa wow, questa sessualità, non so come spiegarvi, come non lo so, cioè pubblicamente no capito è una cosa strana, di solito sono molto riservati, dopo tenteremo di raccontarvi a parole, ho preso questi piccoli gimpà così provo qualcosa di diverso, stiamo passeggiando qui, mia cugina mi ha chiesto di cercare una cosa per il suo fidanzato qua alla Nike, quindi ora andiamo anche da Nike, vediamo se troviamo questa cosa, poi possiamo andare a vedere questo show finalmente Abbiamo trovato le lucine, che carino, ma guardate quella chiesa che strana, non si è proprio fatta per stare in Corea Ci stiamo avvicinando, no non si vede, si vede, si vede, poi c'è lì il cartellone e il manifesto là sotto, ora ci avviciniamo, ecco la mia amica subito a immortalare, subito a immortalare No ragazzi, non so se sono pronta sinceramente, wow ragazzi, non ce la faccio, se non avete capito l'acqua, l'acqua con loro, l'acqua con le facce Wow, guardate qua, è struttile, quante belle fotine, mi penso che sia, questi biglietti, ok adesso entriamo dentro ragazzi, ecco i protagonisti C'è la rivela, la rivela, la rivela di Wild Wild, ok, devo dare due rivela, uno solo per il show, direi 5 5 per il whole show 5 per il whole show, perché alcuni parti erano bene, altri... Perché alcuni potrebbero dire, non, hanno bisogno di cutre queste cani e le danze troppo Ci sarò solo due parti Sì, la rivela, la rivela, la rivela, perché è difficile da fare, e lui era rivela E anche la canzone, ok, per me è una rivela Apparentemente sono in una relazione ora Quindi devo dare un 10 per la mia mamma C'è la rivela di Dizio? C'è la rivela di Dizio? C'è la rivela di Dizio? Ma dall'inizio, in realtà Dressa come questo? Sì La puntata, cioè era lì che veniva Però era quello fan E era il fanico Ok Il fanico, il fanico, ma ancora Il mio preferito è quello che ha fatto il primo, lo show, quello sotto la doccia L'altro che mi è piaciuto è quando ci sono le sedie L'altro che mi piace? L'altro con i piedi? Tu e il mio nuovo figlio Qui vai Quello con le sedie, quando prendono altre versioni dal pubblico Oh, i piedi Sì È più come... Cosa è? Musica? Sì, sì, sì Sì, sì, sì Sì, è così Sì Sì Io non so se sei ancora un apprendista, però comunque vabbè Ma anche se vedi a Sol e vi aiutare il mio uomo, Wild Wild Show Sì Kluke È il Kluke Sì, possiamo dire questo? Ok, re-Luke Ok, ma se vedi a Sol e vi aiutare il Wild Wild Show Poi riservare il ticchetto sull'app Sì, trovi la sua No, diciamo l'app name Oh, posso dire l'app? Ok, scusate questo e usare la prima parte Sì 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 Se fate l'ordine vi chiedono il passaporto Però, ripeto, qualcosa di carino, nuovo, diverso Ci sta con le amiche ovviamente, solo donne Sì Sì, sì Sì, quindi puoi essere comforzati, puoi avere fune È così C'è l'altro che ho dato l'esperienza Sì A un certo punto quella davanti a me si è alzata Sì Cosa sta succedendo? Sì Sì Quindi, apparentemente, puoi venire più di una volta Sì 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 Non lo so Non lo so Sì 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 I ragazzi della doccia, bellissima, grossesca, meravigliosa E gli altri Guardate Loro che mi aspettano Mi uccide questa cosa Bravo, shower guy Bravissimo Tornate a casa Abbiamo già fatto la doccia Siamo pronte Stiamo per guardare l'ultimo film di Hunger Games Perché sto facendo vedere aggiorni a tutti i film Perché non li ho mai visti Però le stanno piacendo, quindi bene Mi ho fatto la cosa Purtroppo, mi dispiace Meno italiana del mondo Lo so Ho preso questa cosa orribile Avevo fame Ripeto, ho il ciclo Tutto va a rotoli E quindi Diciamo che questa era la soluzione È una pizza Un po' dolcina Non è una pizza in realtà Non saprei neanche come chiamarla Però alla fine sembra tipo le nostre suggerate Niente più Niente meno Quindi ora ci vediamo appunto Il canto la vittoria parte Seconda Tanto lì c'è la mia amica E ho fatto la skin care E mi sono accorta di questa situazione Non stressatemi mai Stiamo procedendo Io Sembro I look like a painting Ok Sono un po' incremata Ma comunque Adesso chiederemo a Jenna Cosa pensa che succederà Alla fine di questo film Quale sarà alla fine E poi vediamo se ci ha preso Ok No Jenna You have to tell me What is gonna happen For you Like at the end of the movie The ending And then let's see She survives Ok Tell me all the points It's either she survives Or she supervises herself It's one or the other Ok Who she's gonna pick Oh for the guy Yeah Yeah Because one she's in love with The other one She thinks she's in love with Like or she was in love with him But then Which one is which one She's in love with Pita But she doesn't really Like she's not fully really like aware That she's in love with Pita So she's fucked up Yeah She's the toxic Ok Ah the sister The sister can go fuck herself Because she almost died for the stupid cat But the sister is trained to be a doctor So the sister is gonna have to save somebody Maybe something like this I think Ok She said something But how will she be so good? I don't know The mother If they even show the mother You didn't ask for the mother No Because Who the fuck cares about that Ok ok So she's nothing What's gonna happen in general Like for the system The president I mean he needs to die She obviously Yeah but now You remember now we have two presidents They're gonna try to take To take the capital I'm trying to think of what is going to be at the capital Yeah But maybe they're gonna fail I think it will be good like that If they fail And the guy still stays the president And the whole system goes back to normal And it will just be Because it's not expected Because expected is They're gonna beat it And then the woman is gonna be the president And she's gonna change everything And make it good No Maybe she's gonna become the new president And be like just as bad as the guy The original guy Let's see Ask me again in a few minutes And we'll cut And we'll record this Ok We'll be back in Ten minutes We've just finished We've just finished How do you like this saga? But I'm sorry The first two are my favorite Look at me 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 A wrap Number three was so good I think that was the worst one Yeah My favorite are still one and two This one is a little strange It's just like little The ending was a little stupid Quindi sì Vedete alla fine Il primo e il secondo Perché sono quelli nell'arena Comunque È un'esperienza Finally You could say Ok I saw a little Oh yeah After When did it come off? More than ten years Detto ciò andiamo a dormire We're gonna say good night Good night Vi mando un bacio grande E ci vediamo domani Ciao Ciao